La storia si ripete. L'ultima protesta si era svolta nel marzo del 2014. Adesso Mistretta torna a fare conti con il problema dei trasporti e degli spostamenti. I più penalizzati sono gli studenti. Gli autobus di linea sono vecchi, gli orari delle corse non coincidono e compiono giri molto lunghi prima di giungere a destinazione. Oltre un'ora da Santo Stefano di Camastra a Mistretta e a volte la prima campanella è già suonata. È impensabile aspettare un'ora e dieci su un autobus per arrivare in ritardo a scuola. Questa è una problematica che si è aggiunta a tutte le altre che si sono verificate nel corso dell'inizio dell'anno scolastico e anche degli anni precedenti. In più dobbiamo provare 12 euro di abbonamenti in più che da 67 euro sono arrivati a 80 euro senza un giustificato motivo. La misura è di nuovo colma. Studenti pendolari che viaggiano da e per il centro a Mastratino, mammi e amministratori si sono riuniti nell'aula consigliare del comune per chiedere l'intervento dell'amministrazione. I ragazzi perdono scuola e le preside delle varie scuole non autorizzano più le assenze perché purtroppo sono ingiustificate, perché deve essere l'appartenenza al comune a dare una possibilità di collegamento con gli altri paesi. L'amministrazione comunale, il dirigente scolastico è al loro fianco, quindi cercheremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per tutelare il loro diritto. L'Interbus di Enna dal canto suo ha fatto sapere che le modifiche degli orari e la riduzione delle cose sono state dovute alla riduzione di contributi e di sonvenzioni da parte della regione.